Voci nella notte. Quella notte il gatto navigò da fermo, funi ben tirate e prua controcorrente. Milano era vicina, eppure il buio e il silenzio avevano la dimensione planetaria dell'altopiano etiopico. Un uncino di luna tramontò verso Pavia e Giove divenne così luminoso che finì per specchiarsi nel fiume. Ero rimasto con Valentina a far la guardia alla barca. Lei aveva acceso la lampada a petrolio e si era messa a scrivere in una cuccietta in mezzo a zaini e salvagente, barricata nel sacco a pelo. Faceva un freddo crudo e la superficie esterna della barca grondava umidità. Mi raggomitolai sotto una coperta verdina con tutti i vestiti addosso e quando verso le quattro uscì a poppa a fare pipì, disturbai un grosso pesce che saltò nel buio. Un ragno già tesseva la sua tela tra la bicicletta vermiglia di rene e il boma appoggiato di sbieco alla barra. L'unica cosa luminosa, per miglia, era la mia lampada frontale. Dormire in riva a un fiume è un'esperienza indimenticabile. Le sponde erano piene di vita. Sentì fischi, fruscii, tonfi, schiaffi sulla battigia, bronf, tzz, schaff, scis, spliss, vidi, ombre in funga a pelo d'acqua, serpeggiare di squame tra i canneti. Non era poi così diverso dai fiumi africani, dove la notte i grandi mammiferi vanno a rotolarsi nella corrente. Un topastro avrebbe potuto imbarcarsi facilmente, tanto incollati eravamo al pontone. I topi sono capaci di tutto, sanno risalire le gomene e ovviamente nuotare. Una volta ne avevo visto uno traversare il porto con i cuccioli tra i denti e sapevo che non esiste catastrofe peggiore di un topo a bordo. Nel nostro caso sarebbe stato capace di restare nascosto fino alla foce e magari mangiarsi la mia super mappa a forma di storione. Mi chiesi se il nostro gatto sarebbe stato capace di tenerlo lontano. Molti anni prima avevo visto la grande fuga dei topi nel monzone indiano. A Madras, per le strade, si passava solo tenendo il bagaglio sopra la testa e le locande erano piene di viaggiatori arroccati nei piani alti. Avevo trovato solo una soffitta libera, che all'inizio era sembrata vuota, ma appena avevo spento la luce si era rivelata brulicante di topi e scarafaggi, persino in mezzo alle coperte. Erano tutti lì, all'ultimo piano, terrorizzati dall'acqua. Mancavano solo le bisce. In compenso c'era un ragno tropicale, grosso, come la mano di un uomo e per giunta capace di squittire. Con i topi e i ragni fu possibile un armistizio, perché ciascuno si era ritagliato il suo spazio. Con gli scarafaggi invece non ebbi speranza. Passai la notte a ucciderli a colpi di scarpa, saltando qua e là come una satanato e quando a franto mi addormentavo continuavo a sognare di uccidere scarafaggi. Volavano, si infilavano in qualsiasi affratto e anziché diminuire aumentavano, come se il monzone li avesse condannati a una fregola riproduttiva. E intanto fuori ululava il diluvio. Ripensandoci, quella notte sull'argine di corte Sant'Andrea capì cos'era successo con le alluvioni del Po, segnalate per prima cosa dagli animali, dai mugiti disperati nelle stalle e dalla grande fuga delle bisce, dei topi e delle blatte fin dentro i solai dei casali. Poco prima dell'alba la portata del fiume sembrò aumentare e le cime avvinghiate all'imbarcadero presero a lamentarsi. Sotto coperta si sentirono miagolì, poi la cassa armonica del gatto amplificò un rombo come di treno che passa lontano su un ponte. Un treno che non finiva mai, o forse una cascata. Era di nuovo lei, la voce del fiume, il suo bordone in fondo alla notte padana. Capì la paura ancestrale dei riveraschi, pronipoti dei palafitticoli del terramare, e pensai che il rispetto per le cose del creato doveva passare attraverso la paura. Cosa c'è di più sano per l'uomo di varcare quella soglia? Lo rimette al suo posto nel mondo. Oggi quel sentimento potente sembrava scomparso. Era stato eliminato dal quotidiano, espulso persino dai racconti dei bambini. Il melenzo, l'anestesia da consumo e le mille astute cosmesi ci proteggevano dal terribile. Ci impedivano di avvertire lo scena precarietà in cui il potere ci stava cacciando. Eppure la sentivamo. E come se la sentivamo? Un'oscura nostalgia del brivido degli antenati. Se è vero che pur di provare qualcosa di simile cercavamo di riprodurlo con effetti speciali. Ci era consentito solo il placebo di una paura artificiale tenuta sotto controllo, oppure di sbrodolarci in catastrofismi planetari, quelli capaci di esimerci con la loro stessa enormità, dalle nostre responsabilità verso la natura. Senza più il senso del limite, annichilivamo la percezione del sacro e gonfiavamo a dismisura la nostra arroganza. Stavamo diventando imbecilli, ciechi e dissipatori. Tutto ciò che non avevo scritto durante la discesa a Remi fino a Pavia, quella notte venne fuori, con la forza di una cascata. Ascoltando il tuono del Po, rividi confluenze, ponti e imbarcaderi del viaggio, confusi nella sequenza ma nettissimi nell'immagine e nel suono. Riempì un tacquino intero. Tutto confluiva con facilità. Memorie, parole, sogni, visioni, odori. Rigagnoli anonimi prendevano la consapevolezza dell'affluente e trovavano un senso narrativo nello sposalizio con la madre di tutte le acque. Quanto somiglia a un fiume la scrittura? Quando cominci a sentirne la musica?